Nuove minacce di morte ai danni dell'unico console di sdraele in Italia Luigi De Santis nella cassetta delle lettere di casa trovato nella giornata di ieri un biglietto con una cruce rossa al centro e in lingua inglese la scritta ebreo anche qui. L'ultimo di una serie di atti intimidatori riferisce all'ansa De Santis in merito alla notizia pubblicata oggi da alcuni quotidiani locali. Sono diverse le minacce ricevute, ha aggiunto De Santis in un'occasione fui bersaglio anche di una minaccia di morte esplicita da parte di soggetto di origine tedesca. Al consolato chiese di me e lo incontrai, mi minacciò dicendo ammazzo te e tutti gli israeliani aggiungendo che poi si sarebbe fatto trovare sotto la mia abitazione il giorno dopo e così fu. Da tempo il console israeliano è in contatto diretto sia con la DIGOS della polizia sia con i carabinieri.